Legal English Io sono membro di ULITA, European Legal English Teachers Association, ovvero il gruppo di insegnanti di inglese giuridico a livello europeo. English Training offre tre corsi di formazione per gli avvocati. Facciamo corsi presso lo vostro studio, facciamo corsi accreditati con l'ordine, offrendo anche crediti formativi e facciamo seminari all'estero. Negli ultimi anni abbiamo organizzati seminari a Londra, Budapest, Bruxelles e Amsterdam. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS